La serie Mimesis rappresenta un rover spazzolato. Per realizzare questa serie e dargli massima autenticità abbiamo fatto una nuova tecnologia dove la struttura del supporto, la grafica e la materia finale sono tutte completamente incastro. Questo ci permette di avere un effetto molto realistico, un contraluce molto realistico e infatti anche lo stesso nome che abbiamo dato alla serie proprio perché si deve mimetizzare con il legno vero. La serie si sviluppa in quattro colori, sono quattro nuance molto naturali, tutte in cadenza, questo proprio per mantenere al massimo il realismo di questa serie. Inoltre abbiamo introdotto anche un nuovo formato, oltre al classico 20-120, è stato introdotto un nuovo formato 26,5-160, stessa identica proporzione del 20-120 ma un formato più importante dove si esalta ancora meglio il legno. E ad arricchire la serie c'è uno chevron, la novità di questo chevron che è sì fatto in pressa ma ha degli spigoli veramente molto a 90 gradi e ci dà un effetto molto realistico, quasi rettificato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!